Deux Alpes eravamo io, Tony Hollywood, Brandon Semenuk, Yannick Granieri, tu come ti chiami? Mathieu Peron, ciao, e tu? Loic, ciao, ciao bello, meglio di così raga non si può avere, c'è la crema della crema mondiale, vai bro, I follow you. Ci abbiamo davanti una leggenda, Brandon Semenuk, è la prima discesa che fa, quindi non conosci chiaramente il trail, che come vedete non si vede una minchia, però non potevamo farcela scappare. Ecco, qui panico perché ci sono buche alte mezzo metro e la visibilità è nulla. Minchia come salta lo zio! Grande stile! Grazie a tutti! 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 Questa è la parte più spettacolare del trail Mamma mia, c'è il terreno che ti esplode sotto, bellissimo Sembra di guidare sulle ceneri 4 vite, Janike C'è il terreno che ti esplode sotto, bellissimo Che salo Minchia raga, che roba Che esperienza Qua amanezza Questa è il terreno che ti esplode sotto, bellissimo Questa è la parte più spettacolare del trail Olè, olè, olè E le mani, ciao E le mani fanno ciao Yes, man E le mani fanno Grazie a tutti Questa è la parte più spettacolare del trail